buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 12 ottobre 2024 procediamo subito con il santo del giorno poi vedremo anche le previsioni per questo weekend ma vediamo che è un santo un santo molto particolare eccolo a grafica si tratta del beato carlo acutis ad assisi non c'è solo san francesco che ovviamente monopolizza l'attenzione dei fedeli c'è anche un santo un ragazzo carlo acutis è morto a 15 anni in giovanissima metà a causa di una malattia di una malattia che non perdona ebbene carlo acutis amico di tanti tanti giovani considerato patrono del web era esperto in informatica nonostante la sua giovane età amava la fotografia amava il web e quindi è un santo molto molto vicino ai giovani d'oggi vediamo anche le previsioni del tempo oggi gli esperti ci dicono che il tempo sarà stabile e asciutto con nuvolosità irregolare in serata il cielo sarà offuscato da velature in transito ma nulla di preoccupante le temperature 13 la minima 20 la massima ebbene siamo ancora in zona pericola per quanto riguarda la diffusione della zanzara tigre in quanto le temperature si mantengono ancora alte il freddo che dovrebbe ridurre la popolazione delle zanzare ancora non arriva i venti i venti sulle coste ispireranno con una tensione media da ovest così come nell'entroterra il mare è leggermente mosso il sole solgerà alle 7 e 17 e tramonterà alle 18 e 31 ebbene abbiamo fatto questo prologo ora apriamo il giornale oggi partiamo dal resto del carlino dove l'attenzione del giornale ancora rivolta a tre ponti e alla prologo anzi diciamo meglio oggi a tre ponti da un casolare nei campi a un mini impero così è decollata l'impresa di tre ponti un'impresa che riguarda degli impianti sportivi riguarda anche la bcc arena tutto realizzato con soldi privati ma su terreno demaniale perché poi tutto ritornerà all'apparato pubblico vediamo anche un articolo di cronaca scippava le anziane una lo insegue e lo fa arrestare brillante operazione compiuta da un pool di forze dell'ordine polizia locale commissariato carabinieri ebbene hanno individuato uno scippatore uno scippatore seriale che compiva le sue azioni ai danni in modo particolare delle anziane ma insomma adocchiava soprattutto le signore quelle più fragili secondo lui a cui prelevava la borsa ebbene l'ultimo episodio si è verificato in zona ospedale e qui l'uomo agiva in bicicletta prendeva la bicicletta prendeva si arriva sulla bicicletta poi si accostava alla sua vittima prendeva la borsa e poi se ne fuggiva questa volta però non gli è andata bene è stato arrestato il quarantenne di mondolfo che faceva tutto questo perché aveva dei problemi di tossicodipendenza infatti con i soldi che riusciva a prelevare dalle sue azioni andava a pesaro acquistava la droga e poi se la consumava e scippava soprattutto le settantenni e poi fuggiva anche lui in bici questa volta è fuggito verso verso la stazione la zona ospedale aveva compiuto appunto la sua ultima azione e poi è andato giù con via Vittorio Veneto verso la stazione ed è stato rincorso da una delle sue vittime quelle più giovani quelle più prestanti però questa donna non è riuscita a raggiungerlo arrivato sulla nazionale l'uomo appunto si è diretto verso la stazione la donna invece è andata dall'altra parte a destra verso i carabinieri qui ha fatto la sua denuncia e poi grazie alla sua descrizione ma grazie anche al sistema delle telecamere che ormai sono presenti in molti punti della città gli inquirenti sono riusciti a identificarlo e quindi ad arrestarlo arrestarlo per furto aggravato nei pressi dello stadio dove con ogni probabilità poi l'uomo era anche abbastanza furbo perché arrivato in stazione lui si cambiava d'abito in modo che magari non non fosse riconosciuto dagli abiti che indossava durante lo scippo ebbene è stato è stato dunque arrestato il provvedimento di arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma in attesa del processo che è stato rinviato a novembre una importante decisione è stata assunta nell'ultima seduta della giunta di Fano ovvero la realizzazione dei consigli di quartiere una previsione che ormai è in ballo da anni ebbene la giunta San Filippi l'ha attuata in breve tempo nei primi 100 giorni della sua attività la carica dei 200 via ai consigli di quartiere perché la carica dei 200 perché la giunta ha diviso il territorio comunale in dieci parti quindi ci saranno 10 consigli di quartiere e ognuno è composto da 20 consiglieri ecco perché alla fine si arriva a 200 rappresentanti del decentramento cittadino ebbene è una realizzazione che è stata congegnata in modo in modo piuttosto elaborato cinque dunque diciamo bene il primo atto è quello dell'iscrizione coloro che vogliono far parte dei consigli di quartiere possono iscriversi ad un bando che verrà pubblicato entro il mese di dicembre tra quegli iscritti cinque verranno sorteggiati e faranno parte dei consigli di quartiere gli altri 15 verranno nominati dal consiglio comunale ebbene questo meccanismo non è piaciuto al partito democratico che già ieri ha emesso una sua nota firmata dal suo segretario renato claudio minardi e da tutti i componenti del gruppo consigliare i quali contestano questa decisione dicendo che invece che invece del consiglio comunale sarebbe stato più giusto fare leggere i consiglieri di quartiere direttamente dai cittadini ebbene questa è una sua presa di posizione che certamente fomenterà il dibattito nella prossima seduta del consiglio comunale convocata per giovedì prossimo quando la delibera giungerà all'approvazione della civica assese e vediamo vediamo anche il partito democratico salire alla ribalta per il caso della dengue c'è una interrogazione firmata da tutto il gruppo consigliare cucchiarini al sindaco aiuto per uno screening di massima ebbene il partito democratico giudica l'atteggiamento del sindaco troppo debole per quanto è stato poi consistente il fenomeno della dengue afano un fenomeno che anche a livello nazionale è stato rilevato per la sua importanza e allora criticando l'atteggiamento della giunta il partito democratico lancia una richiesta di screening di massima di massa scusate servirà a capire chi è già stato contagiato e potrebbe anche non saperlo soprattutto perché c'è il pericolo di una seconda infezione e le seconde infezioni sono molto molto pericolose perché possono portare anche ad un esito mortale quindi tutto questo è ancora in fase di elaborazione e anche oggetto di discussione vediamo un altro articolo un pochino più leggero insomma che ci allieva dalle polemiche e dai contrasti di carattere politico l'attenzione che il Carlino dedica ad un fotografo amatoriale il calzolaio fotografo si tratta di Michele Ligustri che è salito sulle colline di Camminate per fotografare l'aurora boreale che così splendeva di notte ovviamente sul mare Adriatico guardate che bella foto qui magari la foto è piccola si vede poco ma in realtà lo spettacolo è veramente eccezionale tutto il cielo si è offuscato di rosso un barbaglio che insomma ha così reso ancora più suggestivo il panorama notturno Michele Ligustri è salito sulle colline di Camminate dove è rimasto dalle 9 alle 24 questo è un fenomeno che non si vede bene a occhio nudo ma che l'obiettivo fotografico coglie in tutta la sua suggestione per scattare immagini indimenticabili una passione sfociata anche nei social vediamo un appuntamento importante oggi questa sera anzi si presenta il programma di attività del Circolo Culturale Bianchini una stagione al via con un concerto questa sera dopo cena alle 21.15 nella chiesa del Gonfalone ci sarà un concerto un concerto dedicato a Puccini quindi ci sarà il soprano Anna Caterina Cornachini che interpreterà le arie più belle del celebre compositore lucchese è un tributo che vede Puccini alla ribalta perché quest'anno si svolge il centenario della sua morte la rassegna di quest'anno del Bianchini è stata intitolata a ecologia profonda e spazio a 360 gradi dalla astronomia alla geopolitica alla filosofia all'arte con una serie di eventi dedicati alla presenza di donne nell'arte insomma una serie di incontri tutti poi possono partecipare a questi incontri l'ingresso è sempre gratuito la sede generalmente è quella del Gonfalone e quindi oggi ci sarà l'avvio di questa serie che continuerà poi per tutto l'inverno tiriamo ancora la pagina andiamo a Pergola a Pergola c'è la seconda giornata dedicata al tartufo Pergola si inchina a sua maestà il tartufo tra gli appuntamenti clou ci sarà il concerto di Ivana Spagna Ivana Spagna in piazza Fulvi alle ore 17.30 domani e poi un super ospite come Luciano Sorbillo il re della pizza napoletana l'unico pizzaiolo riconosciuto dalla regione Campania come eccellenza campana in Italia e nel mondo quindi assaggiare una pizza fatta da Sorbillo dovrebbe essere una cosa veramente eccezionale a Urbino abbiamo una polemica una polemica che si riferisce alla gestione del bar dello stadio Montefeltro è tutto in regola dichiarato Mauro Lucarini presidente dell'associazione Urbino Calcio 1921 il quale replica le accuse della minoranza in consiglio comunale vediamo ancora la pagina dell'entroterra dove purtroppo vediamo un lutto è morto il dottor Ovidio Stocchi per decenni gestì i laboratori analisi cordoglio in tutto l'entroterra il medico infatti in tutto l'entroterra era molto conosciuto e stimato da pazienti e da cittadini aveva incarichi di altissima responsabilità e conservava cordialità e disponibilità nonostante che fosse una persona autorevole nel senso che aveva un impegno veramente importante era molto disponibile, era molto cordiale con tutti i funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Macerata Feltria una lunga fila di persone ha voluto dare già da ieri l'ultimo saluto all'obitorio dell'ospedale di Urbino per appunto così rendere omaggio alla salva ebbene Cantiano non solo Cantiano è oggetto poi lo vedremo anche in un altro articolo ma anche altre località sono molto fragili nei confronti dei temporali di quegli acazzoni improvvisi che seminano veramente tanti tanti danni in tutto il territorio questa volta ne hanno fatto le spese Cagallo e Trasanni due bombe d'acqua sono piovute in queste due località sembrava ieri una giornata abbastanza così leggera invece la pioggia ha veramente caduta insistentemente tra le 19.30 e le 20 quindi mezz'ora mezz'ora appena ma ha fatto molti danni a Trasanni di Urbino e al Gallo a Castelboccione l'episodio si è verificato alla prima curva sotto il distributore ESO e anche qui c'è stato uno smottamento di terra a questo punto possiamo dare anche un'occhiata alla pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata a un processo che si sta svolgendo nel tribunale Pierpaolo insanguinato chi è Pierpaolo? Pierpaolo è Pierpaolo Panzieri la vittima di 27 anni uccisa con 23 coltellate la notte del 20 febbraio del 2022 dal suo amico Michael Alessandrini 30 anni reo confesso dell'omicidio avvenuto nell'abitazione della vittima in via Cavelli ebbene ieri i giudici hanno mostrato le immagini delle cadavere caduto nel bagno pieno di sangue i parenti della vittima non hanno retto e sono usciti dall'aula ebbene si sta svolgendo abbiamo anche delle fotografie che documentano le fasi precedenti e susseguenti il delitto con l'assassino Alessandrini che insomma si reca alla casa dell'amico che poi ucciderà vediamo ancora un altro articolo che riguarda un impenitente possiamo definirlo così si tratta di un nigeriano stranoto alle forze dell'ordine come Puscher operava e opera spesso lungo il corso al Miralfiore ebbene ieri è stato identificato nonostante che fosse oggetto di un provvedimento di via da Pesaro da diverso tempo ebbene l'uomo è fuggito poi è stato raggiunto ha reagito alle fasi d'arresto da parte dei poliziotti e poi alla fine è stato ridotto all'immobilità lui sa che a Pesaro non ci dovrebbe stare lo sa dal 2023 però intanto ci ritorna e questa volta insomma è finito nei guai vedremo se riusciranno ad allontanarlo definitivamente oppure insomma farà un anno di rivieni come ha fatto fino adesso nuovo ospedale di Muraglia c'è la firma sul contratto e questa è una notizia che dovrebbe campeggiare molto molto in maniera molto estesa con i titoli sui giornali perché è una fase importante nella vicenda lunghissima dell'ospedale di Muraglia nuovo ospedale di Muraglia c'è la firma del contratto ebbene giornata storica per la sanità pesarese ieri è stata posta la firma sul contratto per la realizzazione del nuovo ospedale una firma facciamo definirla pesante perché riguarda il maggiore investimento pubblico della storia delle marche 204 milioni di euro che verranno investiti per realizzare questa nuova struttura a Pesaro ebbene ieri alla firma di questo contratto c'era anche il ministro della sanità Orazio Schillace che era ad Ancona per il G7 sulla sanità e ora passiamo al Corriere Adriatico il Corriere Adriatico apre la pagina di Fano con l'annuncio dato ieri dalla Giunta dalla istituzione del Consiglio dei quartieri nascono 10 quartieri della città ebbene sono tutti elencati una volta le circoscrizioni erano solo 6 questa volta la Giunta ha creduto opportuno di aumentare di dare più autonomia a determinati settori delle comune di Fano in passato magari erano aggregati ad altri quartieri quest'anno invece vengono definiti per conto loro sono 10 dicevo quindi saranno 10 anche i consigli 20 i componenti che faranno parte di ciascun consiglio 5 abbiamo detto verranno sorteggiati 15 verranno nominati dal Consiglio Comunale c'è anche la possibilità dei rappresentanti delle associazioni dei vari quartieri di far parte dei consigli senza però diritto di voto e questa è una prerogativa per associare l'azione benemerita delle associazioni cittadine all'attività del quartiere stesso e le comune la giunta poi intende finanziare ciascun consiglio con un contributo che varia varierà tra i 15.000 e i 20.000 euro in modo da poter così realizzare qualche piccola opera su proposta dei consigli stessi vediamo anche come si procederà si procederà con la pubblicazione di un bando per ricevere le iscrizioni poi si passerà al vaglio alla nomina scusate al sorteggio dei cinque che dovrebbero far parte del consiglio stesso poi il consiglio comunale procederà alle altre nomine e intanto è stato allestito il cantiere per il restauro della fontana della fortuna di Fano uno degli emblemi dell'immagine cittadina la fontana della fortuna versa da tempo in precarie condizioni i marmi sono rovinati ci sono anche delle tubazioni idriche che non sono molto più sono più efficienti e quindi la fontana sarà oggetto di un radicale restauro non solo nella parte superiore ma anche nella parte inferiore e verrà ripristinato anche lo scalino originario su cui posava il basamento della fontana stessa dico che oggi è giorno di mercato e questo ha creato qualche problema agli ambulanti che hanno dovuto lasciare spazio al cantiere della fontana ma l'amministrazione comunale ha risolto il problema riducendo non spostando gli ambulanti ma riducendo la metratura delle loro bancarelle grande spazio anche all'arresto dello scippatore seriale e da parte delle forze dell'ordine un'operazione congiunta lo ripeto tra commissariato carabinieri e polizia locale grazie anche al providenziale intervento delle videocamere che sono riuscite appunto a identificare l'uomo grazie alle descrizioni che le vittime hanno fatto dello stesso e poi ancora la interrogazione nel partito democratico sulla dengue che è associata ad una dichiarazione del virologo Roberto Burioni che cosa c'ha da dire ancora di nuovo Burioni ebbene Burioni ieri doveva venire a Pesaro anzi è venuto a Pesaro per una conferenza non aperta al pubblico era una conferenza privata e però insomma lui è venuto non tanto volentieri a Pesaro perché Pesaro ha detto è vicino a Fano e a Fano c'è il focolaio di dengue e poi anche a Pesaro si sono verificati alcuni casi ebbene io vengo lo stesso ha detto nonostante insomma che ho qualche remora però mi copro di repellenti uso tutte le precauzioni per evitare una puntura di una zanzara insomma insomma però ha finita la conferenza invece di fermarmi nella mia casa davanti al mare Borioni ha una casa a Pesaro è ripartito subito insomma perché non vuole storie non vuole correre rischi e questo dimostra anche come gli esperti insomma non considerano tanto insomma non dicono che sia tanto leggero quanto è venuto a Fano ma insomma considerano il focolaio di Fano un evento particolarmente importante anche a livello nazionale passiamo a Cantiano a Cantiano vediamo che è andato fuori uso il ponte provvisorio che è stato costruito alle frazioni di Pian di Balbano e di Casella edificato a pochissimi metri dal ponte travolto dall'alluvione del 15 settembre del 2022 ebbene questa nuova emergenza è stata così distrutta dalla pioggia e c'è un nuovo appello del sindaco Alessandro Piccini un evento culturale Giovanni della Rovere la signoria nasceva 550 anni fa e questo anniversario viene ricordato a Mondolfo a Mondolfo ci sarà oggi una cerimonia pubblica di storia e arte per questo 550esimo anniversario della signoria roveresca su Senigallia Mondolfo e Mondavio infatti era il 12 ottobre del 1474 quando Papa Sisto IV infeudava su questi territori Giovanni della Rovere e a 550 anni di quella bolla di investitura la sede di Mondolfo dell'Archeoclub d'Italia propone oggi alle 16.30 nel complesso monumentale di Sant'Agostino un incontro aperto alla cittadinanza un incontro veramente interessante dal punto di vista storico pagina di Senigallia una ragazza una liceale bocciata dalla scuola è stata promossa dal Tar riammessa in quinta i giudici hanno detto e la scuola ha sbagliato i conti si tratta di una valutazione che era sette contrari e sette favorevoli ma a pesare di più è stato il voto del preside valeva doppio e quindi la liceale è stata promossa in quinta e questo per il momento è tutto abbiamo terminato la nostra rassegna stampa il prossimo appuntamento è lunedì alle sette grazie per l'ascolto e un buon weekend e un buon weekend